L'open source nell'economia di mercato sta prendendo sempre più piede, per Microsoft o altre aziende è visto come una minaccia o si cercano vie di collaborazione? Secondo me i modelli di sviluppo del software si baseranno su modelli economici di differente natura, quello che abbiamo chiamato software commerciale, basato su un ritorno rispetto alle licenze o quello che sarà, perché immaginate un mondo basato su soluzioni con web service, quindi con pezzi di software sparsi adesso per internet, lì la licenza ha un concetto molto superato, si sta ragionando su come si può implementare, e sicuramente anche open source, in questo momento ci sono delle aziende che vanno bene, vivono in determinati servizi, normalmente gli accademici che stanno studiando il modello economico e che futuro potrebbe avere il modello open source, stanno dicendo, e poi vi manderò anche esperimenti al vostro collega, per cui potete trovare, sto dicendo che è evidente che chi veramente può farcela sono le aziende che arrivano per prime nel mondo open source con quel modello e che hanno una tecnologia particolarmente innovativa, perché lo schieno dei servizi purtroppo è il limite in quel contesto, di essere un po' come i modelli di marketing piramidale, cioè i primi che arrivano hanno la possibilità di fiorire grazie al fatto che ne fanno altri, ma poi in questo punto non è più sostenibile. Questo è quello che conservano, non c'è nessuno studio oggi nel mondo che dimostri che ha una sua perpetualità, a mio avviso continuerà, perché comunque al mondo ci siamo tanti, eccetera. In merito al discorso di Linux Server 4, noi consideriamo, cioè la Microsoft considera, superando l'iniziale approccio che era binario, preligioso, cioè tutti contro tutti, io non ero d'accordo su quello, tanto che tre anni fa sono stati assunti per impostare in maniera diversa di dare il lavoro con altre persone. Assolutamente è il cliente che fa il mercato, ma nel libro del mercato sono i clienti che lo fanno. La realtà infatti è che in questo momento, clienti grandi o piccoli, circa il 20% dei sistemi, giusto per dare l'idea server in Italia, è basato su Linux. Quanto è crescita? Ha fondamentalmente eroso, metà ha installato Linux e una parte di quei modelli. Anche la Microsoft è crescita, Windows Server è cresciuto altrettanto. La velocità di crescita negli ultimi due anni di Linux è particolarmente rallentata, ma questo è naturale, vuol dire, cioè anche Windows non è che mai è andato oltre il 70-72% di mercato e 15 anni fa erano uno zero, c'erano altri sistemi. Per cui esistono, ed è importante, un'azienda come Microsoft consideri come concorrente l'altra parte. È chiaro che la discussione, se una discussione con un cliente o con un'olio in sparte dice quello è gratis, quell'altro no, è un problema. E il nostro punto è interoperare, cioè mettere in condizione il cliente di gestire entrambi gli ambienti al minore costo possibile. Le fonti di queste percentuali vengono da? Sono di IDC, di Guardian Group, di Sirvi, di... come si chiama? Anche Head Consulting, per me viene in mente. Comunque IDC e Guardian Group sono i due più grandi centri di analisi di studio a livello mondiale delle quote di mercato sui server. Loro lavorano con chi costruisce i server e chiedono, guardate, questa è una materia che conosco molto bene perché molto discuto con loro su alcune modalità inferenziali che utilizzano per determinare quindi. Ora, se non è il 20 e il 18 e il 22, poco si muove. In termini di trend ti posso dire che la velocità di crescita si abbassa da parecchio, ma non per altro. Adesso ci sono altri fenomeni. Ragazzi, non è più un server che una volta. La virtualizzazione, il consolidamento, è il vero, la vera frontiera dell'infrastruttura. Cioè, sulla stessa macchina avere N versioni di sistema operativo. E allora come calcoleremo le macchie share? Quanti Linux o quanti Windows ci saranno? Capisco? Questa è la propria. mi piace molto l'idea della virtualizzazione. Vi invito a guardare il FreeOS Zoo, lo azone e sistemi operativi virtuali che è una creazione qua a Bologna. Potete sperimentare tutti i sistemi operativi liberi e anche a informatica. Abbiamo la possibilità per gli studenti di provare ogni sistema. Quindi questo lo facciamo già da tempo, come tante cose. Cioè, il multiple desktop lo avevamo già da tanto. Ma andiamo al discorso concreto. Mi ricordo Triussa, se io un pollo è un pollo e tu non hai nessuno, alla fine abbiamo mangiato un pollo a testa. Le statistiche sono belle perché si fa a dire loro tutto quello che volete. Tra l'altro, Gartner è famoso per essere uno dei gruppi che dà le notizie, condizioni del mercato e quindi rende verità quello che dice perché è talmente autorevole che lo fa. Quindi bisogna sempre prendere con le molle tutto. Guardate, get the facts tra di coloro. Quindi prendete i fatti. A parte potrei citare net craft e vedete che abbiamo come software libero il doppio dei server web di quelli che esistono dall'altro. Ma non voglio dare i numeri. I numeri da una parte. Guardiamo invece che cosa sta succedendo adesso, mi si chiede il futuro. quando non puoi combattere un nemico, alleati o meglio la manovra che è in corso è una manovra degna della strategia militare di Napoleone. Dividiamo del nemico, se lo dividiamo allora avremo dei nemici più facili da aggredire. Mi voglio citare una frase del 1988 detta da Bill Gates. During the next ten years, millions of programmers and users will utilize this system. Da fra dieci anni, milioni di programmatori e utenti useranno questo sistema. nel 1988 Bill Gates sta parlando di OS2. Quindi qual è la politica di Microsoft? OS2 ha reso la compatibilità nei primi NT in modo che il mercato migrasse dagli ex OS2 a loro? Qual è lo scopo reale di di quel accordo che ora hanno fatto con Novella? Scambio di brevetti. Tra l'altro brevettare il software grazie al cielo se l'ha scampato il parlamento europeo perché non ha senso brevettare il software. è come brevettare, guardate il frammartino, è come brevettare il giro armonico che come ho detto più volte toglierebbe di mezzo il Festival del Sanremo ma io mi stropperei le veste pur di averlo dietro il Festival del Sanremo perché sarebbe una limitazione alla libertà. I brevetti creano grossi problemi. Arriviamo a Novella e poi parliamo un attimo dei brevetti. Novella ci rende la vita molto più difficile come comunicatori del software libero. Prima dicevamo appunto c'è uno e c'è l'altro. Adesso ci sarà il Linux buono e il Linux cattivo perché il Linux SUSE, Novella, è quello più interoperabile. Allora quando vado da un pubblico amministratore a dire passa software libero ma c'è questo software libero che però contiene dei brevetti di quello e che mi rende la vita più facile per migrazione. Ci scommetto, ci hanno messo le mani agli altri per tirarti come con una fune verso questo. Non lo so, io ho una scommessa piuttosto formale perché non è un accordo a, diciamo, senza termine. Alla fine del termine di questo accordo mi aspetto una fusione per incorporazione della Novella in Microsoft oppure della sezione del SUSE in modo che a questo punto il palco clienti di Linux cattivo è passato nelle mani della Microsoft e quindi può farlo migrare ai suoi sistemi come ha fatto con OS2, la storia ci insegna. Siamo davanti a due visioni del mondo, brevetti. Pensiamo al brevetto questo qua. L'ho lasciato nel 2004, loro, Microsoft, 6, 7, 8, 5, 8, 6, 5, potete controllarlo o cercarlo via rete. Hyperlinks via tab, si intitola. Poter navigare un link facendo tab, l'hanno brevettato. Il problema dei brevetti è che il brevetto nasce per la materia e invece viene applicato allo spirito. applicato i brevetto allo spirito si vincolano elementi del linguaggio per vent'anni, quindi per vent'anni. La differenza fondamentale è che non ho più la libertà algoritmica. Se con il diritto d'autore ora nel silenzio della mia cameretta scrivo un programma e quel programma è mio, come se scrivessi un romanzo, una canzone, perché è software. Vale il principio fondamentale della libertà, della libertà intellettuale. Se ci sono i brevetti, io devo controllare se per caso ho fatto un tab e navigo un link, ho un'icona che modifica la sua immagine per manifestare l'avanzamento di un processo, ho messo un tab, quelle cartelline, questo è Adobe, il brevetto. E i brevetti, sentite, non servono per tutelare, né per tutelare l'invenzione, è una delle parzanate che raccontano, né per l'avanzamento tecnologico né scientifico, servono solo per una guerra, una guerra commerciale fra grandi aziende. Vi racconto questo episodio, poi vi lascio la parola. Io sono titolare di due brevetti, li lasciate, potete controllarlo, dalla Camera di Commercio di Brevet, di Bologna, in ambito nazionale. È un brevetto di elettronica, materia, quindi è quello che dovrebbe servire un brevetto. Elettronica, un espositivo che non fa salitare le luci in casa, anche se attaccate alla vetrice della vostra veglia, tutto è via radio, in maniera che non dovete caprare nulla per casa. L'ho fatto vedere ad alcune aziende, si sono manifestate non interessate, al mare un anno, a quel giornale trovo la mia invenzione implementata. Vado da un avvocato e dice, convinto, come ero, che i brevetti fossero per l'innovazione, gli affacciamo a casa e gli togliamo anche la maglietta. No, dice, se vuoi, però loro sono grossi, hanno la moccata, tirano fuori qualche prior art, tira fuori, non mi ricordo più l'importo, per partire, perché costano un casino le case sui brevetti, e incominciamo, però non so dove andremo a finire. Io ho piantato tutto. I brevetti, sapete che non ci sono attività processuali sui brevetti, che sono tutti accordi extra processuali, perché sono i grossi che i piccoli li mangiano e fra loro fanno patti di non belligeranza. Non è un caso che i brevetti sul software in Europa li volevano i grossi e tutte le piccole e medie industrie non li volevano. Non è un caso che il 4 di luglio dell'anno scorso il Parlamento europeo, in seconda lettura ha reggettato questa norma, questa norma è stata reggettata, e ci voleva la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, una cosa mai successa in Europa. Notate che i giornali non hanno proferito parole su queste cose. Perché? E adesso vi rispondo alla domanda di prima. Perché non si usano altri software? perché non si può conoscere. Perché qual è quel giornale che vuole perdere il paginone di pubblicità? Qual è quel centro di ricerca che vuole perdere i finanziamenti? I finanziamenti possono servire per la ricerca, ma anche per comprare l'opinione. Pensateci. Signor Bocadamo, se vuoi rispondere, dovremmeno se no... Sì, sì, io... Sì, un paio di minuti così andiamo a fare l'opera. Non è che ci sono delle risposte, il professore sono degli argomenti più interessanti, per cui ci sono molte cose interessanti che ti ha trattato. Io ho una cosa che volevo lasciarmi come sempre in merito alla questione dei modelli, eccetera. Guardate, penso che sia così rilevante per l'incustitazione che il mondo è fatto da... e sta cambiando, che per darvi un'idea, all'interno di Microsoft c'è una divisione che si occupa di capire come risolvere i problemi dei clienti che utilizzano ambienti eterogeni, perché questa poi è la realtà dei fatti. Cioè, credo che anche voi a casa abbiate differenti tipologie di tecnologia di formidore. Io personalmente ne ho davvero tanta... Indipendentemente dal lavoro che faccio in Microsoft. Per cui, quando un cliente gli dice a me non interessa, con dottore A, con dottore B, se io sono messoso, se non sono messoso, e io voglio che gli abbiano insieme correttamente, questa distribuzione di Linux, perché adesso, ragazzi, cioè, diciamo, se al direttore non è che tutte le distribuzioni di Linux sono identiche, sapete perfettamente che l'inizio non cessa. C'è un momento in cui viene congelato il kernel, da un'azienda lo prende, per sei mesi non lo nota più, perché ci aggiunga dei mezzi, piuttosto che tutti gli altri elementi di dicembre, le quali comunità lavorano non necessariamente sicuramente entrate fuori loro, e non esiste ancora uno standard, tanto che anche nel mondo dell'open source è stato creato un organismo per cercare di definire qual è la base standard per Linux stesso, perché altrimenti succederà come con UX, tutti i vari di elettrici, il cliente dice, io ho i server Linux, Microsoft, voglio che lavorino, Novell, Red Hat, Jboss, Xen, altre società impegnate con modelli open source o misti nel creare tecnologie, hanno praticamente, cioè il cliente ci ha detto, andate da loro e risolvete i problemi, e noi abbiamo iniziato, questo proprio mio gruppo, io faccio parte dei 50, che portano all'attivazione scorso, questo programma di interoperabilità, abbiamo iniziato con aziende piccole, ma anche con aziende grandi, ricordate che sono andate anche da Red Hat, a Lod, che continuiamo a Red Hat, è un asteggiamento che per vari motivi, che adesso potremmo discutere, magari se volete mi iscrivete, vi raccomando questa storia, vi dico perché non siamo ancora riusciti a diventare a una conclusione, il che vale il momento dell'interesse del cliente, mentre Xen, Zend, sono leader nel tecnologie di virtualizzazione, Jboss, application platform, si, lo vedo subito, abbiamo fatto questi accordi, con Novel, anche, e sono per esempio sulla virtualizzazione, per far sì che Linux possa virtualizzare Windows nel modo più efficace possibile, Windows possa virtualizzare Windows nel modo più efficace possibile, sui web services, e sui format documentali, poi la stessa maglia, soltanto i progetti open source, andate su www.codeflex.com, è una piattaforma, in cui stanno i progetti basati sui logici che condividono, open source, sia accesso ai tool che alle licenze, questo a darvi un'idea delle tecnologie che scegliamo, e dei progetti sui quali collaboriamo, anche con logici open source, non è, in azienda almeno Microsoft, visto tutto come bianconero, lo posso garantire, perché pensiamo che il mondo non sarà bianconero, il Netcraft, che il professore ha citato, in Italia dice che ha, che i server, voglio dire web, sono il 52% basati su Windows Server, e il 48% basati su Apache, questo è l'unico, sono due le nazioni al mondo, questo è soltanto per riportarvi i fatti, e normalmente i web server vengono scelti da chi li mette in piedi, è difficile che Microsoft vaga a raccontare sul web server, che è qualcosa di particolarmente ormai facile da mettere su, questi sono i dati in Netcraft. Un ricercatore che ha bisogno continuamente di testare e confrontarsi con il resto del mondo della ricerca, perché dovrebbe affidarsi ad un sistema come Microsoft, chiuso e proprietario, quando invece in questo ambiente c'è bisogno di molta apertura e dinamismo? Sia le licenze Microsoft che GPL hanno delle clausole di limitazione di responsabilità, perché dovrei essere spinto ad usare un software proprietario che si limita la garanzia sul funzionamento, mentre con un sistema open source posso correggere gli errori autonomamente? Vorrei sapere la differenza per Microsoft tra ricerca pure ricerca applicata, quanto vi è investito e come vengono distinte tra loro. Va bene, passiamo le risposte, darei prima una domanda a me. Ok. Parto dall'ultima solo per la comunità, non ce l'ho segnata. Microsoft ha un dipartimento di ricerca sull'interno molto importante, si chiama Microsoft Research, se voi andate sul web trovate voi direi di tutto. Tutto il lavoro fatto da Microsoft Research è una funzione non dipendente dalle strategie di prodotto di Microsoft Corporation. E' ovvio che lì dentro si sviluppano mediamente molto del loro impegno rispetto al software, o alle tecnologie, IT. Però ci sono algoritmi in studio, per esempio i grossi passi che si sono fatti di implementazione software oggi del riconoscimento vocale, sono figli del lavoro fatto da due dei principali ricercatori d'origine cinese che abbiamo iniziato otto anni fa in quel centro. Chi ne ha beneficiato la Microsoft e la pasta? No, perché come il mondo della ricerca è connesso al nostro Microsoft Research, e Microsoft Research fa parte del mondo della ricerca, secondo i canali tradizionali e convenzionali, la maggior parte della tecnologia o delle ricerche che Microsoft sta sviluppando, Microsoft Research, sono pubblicate o sono rese fuibili secondo canoni ordinari della ricerca. Tanto che i capi di questa grande società, perché alla fine una società impegna 7000 persone, probabilmente non sono pochi di ricerca tra i puri, sono persone famose del mondo della ricerca, sono stati fisici, sono stati scienziati, eccetera. Quindi la risposta anche per lei è quanto Microsoft impegna in quell'ambito? Estimabili intorno all'ultimo anno sono stati 3 miliardi e quasi e mezzo dei 7 complessivi di ricerca e sviluppo. Una parte della ricerca e sviluppo invece è la parte in cui noi creiamo il nuovo software, cioè, non so, vista. Quella lì è anche ricerca e sviluppo, non è che non lo sia, perché non necessariamente però è vista come ricerca pura, cioè lasciata lì che magari poi non ne faremo niente, oppure ne beneficerà altri tipi di ricerca, via dicendo. Bisogna distinguere, questo normalmente nelle aziende che investono in ricerca si fa perché altrimenti diventa veramente ingestibile. Penso che l'università ne sappia qualcosa su queste logiche ricotoliche. Quindi la risposta, voglio dire, è quello che... Guardi, quel mondo lì è proprio un'altra cosa. Se lei va su Microsoft e ci vedrà gli strumenti che le abbiamo messi a disposizione, tutto quanto viene reso disponibile dove è tipicamente come il modo della ricerca risponde. Le collaborazioni nascono anche in modalità diverse. Ok, Trento va scritto su una rivista, noi abbiamo risposto perché ci interessate, abbiamo lavorato e alla fine abbiamo creato la nostra collaborazione a Trento. Poi, risalgo, il discorso delle garanzie e delle licenze. Eh, signorini. Questo è un tema di natura giuridica. Sarebbe interessante avere qua i vostri colleghi, proprio di Bologna, che sono molto attivi su queste tematiche. Io le dico solo una cosa. Quando il cliente pensa alle garanzie, non pensa necessariamente a ciò che i giuristi hanno codificato per essere le garanzie, ciò che il diritto civile prevede o non prevede, perché poi il software, essendo materia nuova, non bene tangibile, comunque il materiale normalmente non è facilmente riscontrabile all'interno dell'ordinamento totale. Infatti si usa il copyright, per dire, spesso. Quello che le posso dire è che i clienti normalmente come garanzie vedono letteralmente il fatto che un'azienda sappia essere dietro il proprio software. Quindi nel momento in cui ho un problema, tu sei con me a mettere a posto il problema, oppure nel momento in cui io devo capire dove la tua tecnologia andrà, perché io devo decidere l'investimento, mi spieghi e decidi un investimento. Però questo, per quanto ho detto io, non ho l'interesa, però sono contratti successivi magari di assistenza, che è un servizio, non è compreso nel software che io... Cioè, prendo Windows XP, non ho nessuna garanzia, magari il prodotto che pago, facciamo vedere che non serve di piensa, però ci sono delle... C'è scritto quali sono le garanzie. Per esempio, se riprende la licenza all'uso del software mai usato da tre anni a questa parte, in Italia, leggerà, per esempio, che chiunque le faccia causa rispetto alla nostra... ha presunte proprietà intellettuali di altri che qualcuno sostiene noi abbiamo usato nel nostro software. Quindi, qualcuno dice, la Microsoft è utilizzata in vista della tecnologia che era protetta da qualunque forma, prevetto, copyright, qualunque altra cosa, io faccio causa alla Microsoft e nel sistema, nell'ordinamento italiano, si può fare causa anche al fuitore. Ok, questo è proprio... Sì, perché questa è una garanzia di funzionamento? Cioè, se il prodotto che avevo funziona, se non sapere se Microsoft ne garantisce questo, non credo che succeda, allora... In che senso non credo che succeda? Cioè, se c'è un mal funzionamento del software... Sì, se la Microsoft si prende cura di risolvere i problemi... Come? Se la Microsoft si prende cura di risolvere i problemi accanto a lei... Sì, cioè, se mi presenti perché era un dato economico... In quanto tempo fa, io... Ok, ho capito. La questione del dato economico, della valutazione del valore del dato economico è una questione di tutta la... Il problema di risolvere i dati, i personali... Sì, sì, no, capito cosa intende dire. Rispetto ai problemi del software, le aziende di software, anche quelli basate su open source, espongono la possibilità, questo è il comune, espongono la possibilità di risolvere i problemi. Poi, niente misura nella capacità, nella rapidità, nella quantità di impegno che quelli presa mette per risolvere i problemi. Rispetto al danno, nel software cosiddetto pacchettizzato, cioè quello che vado a acquisire o a scaricare, non troverà niente che le possa dare delle garanze in merito. Questo fa parte del mondo del software in genere. Giusto o sbagliato che sia, essendo un'opera particolarmente legata a processi che guidano gli uomini, inevitabilmente ci sono dei problemi sempre, no? Questo è il punto. Quanto poi i problemi impattano, sta nel modo in cui anche io so quali possono essere potenzialmente i problemi e come amministro, gestisco, metto in produzione la tecnologia, tanto che si sono sviluppate, fin dai tempi dei mainframe, metodologie di messa in gestione. Oggi non c'è niente al mondo, in nessun tipo di ambito, sia con software, sia GPL, sia con software, sia protetto da altre forme di licenza. Guardate che nel mondo che in SOS esistono in questo momento 62 licenze diverse. Non è la SPI, è 62, c'è nessuno. E nessuna garantisce, nessuna può dare la garanzia, perché onestamente è difficile. Le si dà quando si costruisce un software per un'azienda specifica. Si creano le condizioni e si dice, ok, allora, questo è quello che tu mi chiedi, io te lo faccio esattamente così, i termini del rapporto sono questi. Ma questa è l'industria del software in genere. Anche a 5 minuti. No, non so. Poi l'altra domanda che avevo era... Si vuole rispondere. No, il discorso della... Sì, scusate. Ok, rispetto alla pubblica amministrazione. Io do solo un numero, e questi sono i numeri pubblicati dall'Insta. Così vi fate con un'idea. Tutta la tematica della razionalizzazione, uso il termine, visto che io arrivo alle comuni di apposta, e se le due alle forme, della spesa nella pubblica amministrazione rispetto alla tecnologia, all'IT, Information Technology, in questo momento, quindi l'ultima rilevazione del... fine del 2004, da parte dell'Insta, ciò che la pubblica amministrazione spende per Microsoft, quindi per licenze di Microsoft, al massimo, perché non sono così in grado di capire precisamente, se volete, avate, vi spiegherò quali sono i problemi che abbiamo di amministrazione italiana, ma potete immaginare, al massimo rappresenta il 5,8% della spesa complessiva per l'Information Technology. Finito. Vi potrei dire, potrei suggerire, di andare... Quanti sono i soldi? Quanti soldi? 5% o non ci sono i soldi? Non posso darvi questo numero, andate a guardare sul sito dell'Istat, perché dell'Istat? Non sono stato autorizzato a rappresentarlo in questa pubblica amministrazione. Anche cosa fa? Anche cosa fa? www.istat.it ragazzi, cioè, non è che le regole di Stato lo partendo, scusate, cioè, le leggi italiane le conoscevi tanto me. Con le convenzioni di Guadagno. No, vabbè, adesso, non c'è questa domanda. La convenzione, non c'è la mia Guadagno. No, guardate, la convenzione, cioè, questi qui sono, la convenzione, lei adesso ha citato qualcosa che probabilmente la maggior parte delle persone non hanno presente cos'è, è un accordo commerciale, la convenzione del software fra la pubblica amministrazione italiana e la pubblica del PM. Anche di collaborazione, lei ha parlato di Trebito, io ho parlato di Pisa. Io finisco, io finisco la, a Pisa non mi, le finisco il discorso. Provate a guardare quando spede la pubblica amministrazione italiana nel mantenere database sul sistema di 25 anni fa, gestiti da società che non necessariamente producono software e che chiedono i servizi miliardi, ma letteralmente miliardi per poche ore in intervento all'anno. Io sono un cittadino italiano come voi e quindi dico quali sono i numeri. non mi frega niente della Microsoft quando vi parlo di questo, vi parlo della realtà. Cioè volete vedere con me a protestare davanti al Parlamento per questo? Io sceglie di nulla perché li conosco nella vita e quindi parlo con i ministri che riguardano e si nascondono. Questa è la realtà dei fatti, ma questo riguarda il software, riguarda l'anguette, riguarda anche altre tematiche. Per cui il numero che volevate è meno del 6% della spesa complessiva di information che ricordo della pubblica amministrazione italiana e per software ma è così. L'ultimo argomento i linguaggi. Scusate, esistono linguaggi al mondo che sono affermatissimi che non sono mai stati neanche sviluppati come implementazioni successive eccetera da Microsoft. Cioè non è che la Microsoft ha condizionato il mondo dell'informatica. PHP è un linguaggio che non è nato in Microsoft. C'è un'implementazione PHP oggi per .NET e Microsoft si è preoccupato di dire ma se il mondo usa PHP io devo far sì che nei server faccia una funzionale meglio possibile in PHP. La nostra differenziazionale faceva schifo e questo ha dubbiato Linux. Molti programmatori però dicono sapete che il PHP lo sviluppiamo con i tool Microsoft perché sono estremamente efficienti. Poi lo mettiamo in produzione su server Linux perché è più efficiente per rifiudarci finale un'azienda come Microsoft dice ok allora io cerco di sviluppare parte server che lavori bene con PHP vado a parlare con una società che vive nel PHP e trovo come farlo. Cosa c'è di spagliare di questa atteggione? Se poi a quel punto voglio dire gli sviluppatori PHP guideranno il server Microsoft piuttosto che Linux 9RD o altro non è che l'ho definito io io faccio ciò che il mercato chiede chiuso. Questa è la dinamica di mercato e potrei dopo spiegarle come è andato US2 o altro perché c'ero io lì quindi le dico cosa è successo con US2 MT non è stato fatto con IBM ma è stato fatto dal personaggio che si chiama Dave Cutler che era il capo degli architetti di MWS in Digital MWS era un sistema che Digital aveva deciso di chiudere per portare avanti il discorso non è MT mi scusi però cerchiamo anche di andare avanti poi sono anche a giù le mani allora in merito ai finanziamenti resta un team finanziare ci sono 30 milioni di euro che abbiamo adesso 30 milioni di euro magari il problema tra conversioni ma parliamo di garanzie la garanzia migliore è la conoscenza andiamo a vedere casi specifici Code Red Code Rainbow erano dei worm che viaggiavano in rete che attaccavano determinati sistemi di web server e essendo web server proprietari chiusi l'unica scelta binaria che avevano le persone era quella di continuare a tenere in produzione questi web server con il rischio oppure chiudere la produzione è chiudere il servizio è arrivato il service pack perché la patch si chiama in questo modo ma nel frattempo nessuno poteva implementare il workaround tra l'altro guardate nell'ultima Eula c'è un articolo che mi ha lasciato anche sconvolto dice divieto di risoluzione dei problemi è vietato se avete un problema risolverlo una spiegazione che ho letto è stata quella di perché così potreste venire a conoscenza dei segreti di come sono fatte le cose stiamo parlando di un'economia dei segreti la garanzia la fate voi la garanzia la fa il fatto che la conoscenza sia aperta che possono esistere distribuzioni la sicurezza del sistema dipende dall'aggiornamento del sistema dalla qualità del software dall'aggiornamento del sistema esistono non dal modello di licenza ricordatevi bene qui si fa secondo me anche un po' volutamente confusione software libero open source è un modello di licenza non di sviluppo i modelli di sviluppo prima si diceva noi abbiamo i blocchettini lego che problema c'è ce li abbiamo anche noi i blocchettini lego solo che voi li fate voi noi li facciamo in tanti è grosso windows ma ubuntu se ne andate a prendere nella sua complessità è grosso tanto quanto solo che invece di farne in uno l'abbiamo fatto in milioni di persone non so migliaia sicuramente decine di migliaia di persone è il modello di licenza che fa la differenza che là è tutto chiuso tutto segreto poi chi lo tocca e ti vendi il segreto noi vendiamo vendiamo servizi e regaliamo conoscenza un problema simile a Code Red Code Rainbow in un ambiente libero avrebbe consentito di pagare esperti locali per fare un workaround momentaneo per andare avanti con dei servizi minori ma continuare ad andare avanti anche se non fosse arrivata la patch ufficiale considerate che sistemi tipo Debian hanno delle medie di due giorni 48 ore se sbaglio corriggetemi ci sono dei mantener Debian fra il pubblico che li conosco di chiusura almeno di primo bug li avete mai visti da altra parte 48 ore di chiusura di primo bug quanto avete aspettato il service pack che poi queste cose quanti sistemi esistono l'idea che viene data è la sicurezza che si mette ed è sicura cioè fidati funziona così la sicurezza garanzia di sicurezza ve la dà l'aggiornamento con quanto riguarda il worm ve lo dà la conoscenza del sorgente con quanto riguarda backdoor virus backdoor e cavalli di troia è vero che uno non legge tutti i colci ma se ha il dubbio ci sia un cavallo di troia nel software libero lo controlla nel software proprietario deve fidarsi di quello che dicono e poi il software proprietario sarà garantito la ditta ma nel software proprietario esistono un sacco di uova di Pasqua lo sapevano che c'erano le uova di Pasqua sapevano che quando mi hanno venduto Excel c'era dentro questo l'ho provato un labirinto se lo sapevano che c'era un fly simulator nell'altro questo l'ho letto su rete se lo sapevano vuol dire che mi hanno fatto comprare della RAM mi hanno fatto comprare delle risorse perché mi hanno messo sul mio sistema delle cose che mi hanno saputo e come quelle quante altre cose ci sono che voi non sapete questo non è la supposizione che ci siano delle cose che non vengono dichiarate cioè si mantengono ma parliamo allora parliamo ancora delle cose no no ma io posso chiarire anche queste cose parliamo allora delle cose che ci sono e sono dichiarate parliamo di di CPA parliamo di controllo di contenuti ok se qualcuno decide di non far girare a suo figlio in internet per più di tre quattro d'ora al giorno lo faccia pure alla patria potestà ma che venga a decidere ciò che io posso o non posso vedere no perché io sono maggiorente e la possibilità di creare una catena di trust che va dall'app ai sistemi operativi alle applicazioni ai contenuti quello che c'è dentro questa fa in modo che un domani vi possa essere negato di guardare qualcosa chi lo decide chi è che fa questa grande manovra di censura chiamiamola col suo nome voi direte c'è la scelta tra l'altro un nome di un sottonome della della persone che hanno del gruppo che ha organizzato questo seminario è l'assioma della scelta no la scelta è sacrosanta ci deve essere ma amiche delle mie figlie sono venute a casa mia a navegare in internet e ad un certo punto sono arrivati in un sito che dava un contenuto Windows Media usiamo Ubuntu e non si vedeva le mie le amiche non hanno detto guarda che almeno maleducato quel sito che mette il contenuto in un formato che io non posso vedere no dicono ma guarda hai una cosa fuori dal cuore tu hai Linux funziona male perché non si può venere ed è quello che succederà perché essendo una parte fondamentale del mercato che io uso un tipo di prodotti è una parte minoritaria essendoci un mercato dominante e questo non lo dico io lo dico la vita su pelle ha puntati ha detto togliete Windows Media Play dentro e loro stanno facendo lo toglieranno da XFeed anche se da XFeed ma non c'è più e cosa succederà che dividerà è questo il grosso pericolo dividere i contenuti contenuti buoni e contenuti cattivi tu hai il sistema operativo buono puoi vedere i contenuti buoni tu hai il sistema operativo cattivo e i contenuti buoni non li puoi vedere ok l'esultato se tu hai scritto un programma sei d'accordo con loro fai parte di quelle di serie A fai il giro di pagare le royalties pagare e fai parte l'hai scritto vuoi farlo libero fai parte di quelle di serie B protagonisti spettatori come adesso la musica sei con la grande major fai parte dei contenuti di serie A non sei con la grande major fai parte del contenuto di serie B chi di voi si è dovuta la fondonia che i DRM servono a proteggere i contenuti è una balla i DRM servono per per le major cinematografiche sapete perché la Paramount questa è bella perché la Paramount e la Fox se ne stanno a Los Angeles perché quando l'ho letto non ci volevo credere mi invito a leggere questo libro perché è molto interessante dopo appena trovo la nota ve lo dico si chiama Against Against Intellectual Monopoly è bellissimo perché vi vede pensate Fox e Paramount paladini della libertà di informazione che vogliono violare il brevetto della Edison e quindi se ne vanno dall'altra parte sono sempre loro che adesso invece vogliono bloccare tutto con la MPAA se avete un contenuto con DRM lo potete ascoltare non avete ancora il bocchettone di matrix qua dietro quindi dovete arrivare alle orecchie quindi potete partiamo di audio le città le Zara minore la qualità e le metterle in rete ok il risultato è che non avete protetto la musica avete solo separato e avete avete fatto in modo che io ad esempio con il mio Linux se voglio vedere un DVD devo infrangere la legge perché ho bisogno del DCSS che è classicamente considerato un aggiramento dei metodi di protezione quindi tu hai il software cattivo ovviamente il bene e il male sono pregiudizzi di Dio quindi potete convertirli come volete cambiare i ruoli e ho il sistema operativo cattivo non posso vedere di Dio allora sei nel gruppo dominante o sei in quello sei quello che vuole la libertà o che vuole stare a dare cose di mercato la piccola e media impresa italiana ad esempio ha preso il via ad usare sistemi Microsoft più che altro per il fatto che sono accessibili anche persone non competenti per quale motivo dovrebbero cambiare parlando di sviluppo software Microsoft ci può dire come vengono organizzati i processi di progettazione e se si utilizzano modelli particolari nel corso della mia carriera universitaria ho dovuto affrontare un esame obbligatorio di Microsoft Office quando poi ho scoperto Linux usufruibile gratuitamente la cosa mi è sembrata piuttosto strana una parte dei vostri investimenti punta a fare insegnare su dei sistemi che sono usufruibili solo a pagamento vorrei chiedere al professor Davoli che cosa secondo lui è la conoscenza e perché non dovrebbe rientrare nella logica di prodotto la conoscenza è l'informazione di ciò che entra nel processo del pensiero umano noi viviamo di conoscenza se la conoscenza venisse pensiamo a un mondo a me piace ragionare per assurdo andiamo a vedere il mondo contrario andiamo a vedere un mondo dove ogni entità di conoscenza è da pagare è da acquistare è vuol dire che finiremo in una babede ognuno ha il suo pezzettino di conoscenza ma non riesce a comunicare con gli altri perché non ha la conoscenza sufficiente per arrivare con gli altri e sarebbe tra l'altro un mondo tremendo dove la capacità economica determina per esempio la cultura determina la potenza aziendale un mondo in cui a chi ha sarà dato perché chi ha soldi può acquisire conoscenza e può ingrandirsi chi non ha sarà tolto perché chi ha poca capacità economica avrà poca capacità di acquisire conoscenza avrà poca capacità e avrà minore possibilità di crescita in realtà è quello che sta succedendo adesso la fonte non so quanto sia vendibile il Tg1 di qualche sera fa di un mese fa diceva che è la prima volta nella storia confermatevi se qualcuno l'ha sentito com'è è la prima volta nella storia dell'umanità che la vita media del pianeta incomincia a decrescere non è più crescente ma è una cosa sconvolgente ma che cosa è dovuto questo è dovuto forse all'inquinamento o è dovuto al fatto che e questa è la fonte è il pianeta dimenticato dai 2 e la mattina dai 2 o 1 scusate la mattina e diceva che portava un servizio in cui raccontava che il principio attivo per per salvare i bambini dalla malattia del sonno con la mosca del zezè è contenuto in un rossetto di una casa di New York e là viene venduto per pochi dollari gli altri non lo possono utilizzare perché è proprietà intellettuale ragazzi la conoscenza la conoscenza è quello che ci consente di capire le cose voi se siete qua e se siete veramente studenti universitari dovete il cuor vostro essere hacker cioè tendere alla conoscenza e arrabbiarvi con qualunque vi negli la conoscenza se vi dicono e sarebbe come la matematica questo è il teorema dimostrazione posso mica rietta vedete ma è quello che fa come dicevo prima l'ho detto prima il saggiatore Galileo Galilei ci racconta che questa non può mai essere scienza perché la scienza deve portare a esperimenti ripetibili e se non essere esperimenti ripetibili la conoscenza deve essere condivisa alla fonte se no come faccio se mi pubblica dei numeri di performance di Windows e Spi io dico se mi dai se rendi pubblico non mi dai che sapete rincorrono le persone del software libero come gli esattori delle tasse americane dove devi toccare il foglio per dare sorgenti di Windows io non ne voglio perché se prendessi in mano i sorgenti di Windows vuol dire che ogni mia creazione software potrebbero dire l'hai presa da lì io non ne voglio non ne voglio neanche vedere la lontana o li metto pubblici o io non ce li ho comunque dicevo se mi pubblica un valore di performance non è detto che sia che ne so il funzionamento di Word rispetto a Open Office possono aver condizionato il funzionamento di Word o mal condizionato il funzionamento di Open Office per far risultare come il che vogliono l'esperimento non è ripetibile non è pubblico ok quindi non è scientificamente rilevante questo per la conoscenza ho dimenticato le altre domande c'era una domanda sull'uso delle piccole e medie imprese sulla facilità d'uso facilità d'uso hai mai installato Ubuntu e hai usato Ubuntu io sono 4 anni che sono Ubuntu in particolare la difficoltà nell'uso del Linux è che se ho notato un sistema preinstallato già funzionante lo prendete dal negozio arrivate a casa 4 l'altro si scorda di dire non utilizzarlo come amministratore tutto il giorno fino a XP devi creare un utente tanto se arrivano il virus sono tutti brutti e cattivi è un fatto vostro è il mondo che è fatto così la sicurezza vostra per loro è un costo perché se voi installate un programmino e non si installa a primo colpo dite che non va a Windows se invece per installare quel programma a primo colpo hanno tolto tutti i livelli di sicurezza arrivano anche i virus ma voi siete contenti perché siete riusciti a fare tutto facilmente fate una statistica entrate negli uffici e guardate se utilizzano i sistemi Windows correttamente con gli utenti o li utilizzano sempre in modalità amministratore se Ubuntu è semplicissimo una volta installata è difficile ma neanche poi tanto da installare tra l'altro chi adesso ha fatto l'esperimento ha visto dei filmati su YouTube guardateci di installare Vista si è accorto che ci sono incompatibilità di driver e quindi l'installazione è difficile appare difficile il cambiamento in realtà lo stavo parlando in generale di persone che non pensano se si trova un problema il problema è che in quel caso Windows il problema o non si risolve mai o si chiama in quel caso in città tu riesci a chiamare e qualcuno ti risponde al mondo Windows vi dico un'altra cosa fuori da Redmond non possono esistere esperti Windows perché perché non possono avere conoscenza di assorgente non possono se hanno un problema io se ho un problema su Linux in ultima analisi vado a debagare il kernel loro e in ultima analisi cosa fanno spengono e le accendono ripercorro un attimo la domanda sulla conoscenza la definizione evidentemente quello che vi posso dire è che è assolutamente vero il fatto che è importante nel mondo d'oggi evitare ridurre quello che è un fenomeno comunque esistente dovuto alla differenza e capacità delle nazioni nel mondo di investire in tecnologie e il fenomeno si chiama digital divide divisione digitale questo qua è un problema di natura sociale di sviluppo economico non ha a che fare né con un'azienda né con un'altra non ha a che fare con un'azienda ha a che fare come con altre tematiche sull'impostazione voglio dire di chi governa le nazioni sull'economia locale vi dicendo che posso però darmi un commento allora Microsoft essendo un attore evidentemente importante nel mondo dell'informatica deve per forza dovrà per forza sentire la responsabilità di partecipare a questo tipo di discorsi noi abbiamo un'area che ha indipendenza nel modo di agire è un budget anche per l'italiano molto importante che si occupa di far sì che la stessa azienda quindi l'identità più negativa che può apparire quando si parla di queste cose Microsoft eventualmente perché è figlio del mercato eccetera si preoccupi di quello che viene chiamato gli americani citizens cioè essere buoni cittadini ovvero partecipare a delle discussioni locali o internazionali per superare queste tipologie di tematiche e per esempio con i vari governi italiani che si succedono adesso avevamo iniziato con questo qua evidentemente forse dovremmo ancora cambiare sono in corso delle operazioni importanti in cui anche noi ma capite noi siamo una delle realtà in Italia diamo il contributo per darvi un'idea qualche anno fa con una cosa proprio molto elementare siccome i digital device si realizzano non soltanto a geografia nel mondo ma anche rispetto alle differenti età in Italia ora nella scuola italiana ho potuto dire l'età media dei 248 anni e gli studenti sapete che non è l'età che sono fino a scuola superiore c'è un grosso gap nell'utilizzo oltre che nella conoscenza delle tecnologie uno degli investimenti che Microsoft ha fatto investimenti e che abbiamo chiesto all'altra azienda di fare d'accordo con il ministero ai tempi era l'istituzione poi è diventato mio ma adesso non sappiamo come si chiama più è stato quello di formare i professori a cercare di comprendere meglio determinate tecnologie ora non è che possiamo parlare di tutte le tecnologie per gli anziani per esempio abbiamo fatto gratuitamente in molte città dei corsi che sono durati settimane e hanno portato 400.000 anziani in Italia cioè over 60 per intenderci adesso veniva scelta questa come valutazione d'accordo con il ministero competente a fare informatizzazione di base questa è stata un'iniziativa legata al digital divide locale poi ce ne sono un sacco d'altra ente che mi dica perché ci sono sui siti di Microsoft delle fondazioni legate a bigliette eccetera in merito al discorso del posso guardare un attimo oh sì questo è interessante sicuramente il discorso del di cosa è un'iniziativa di ciò che è uno strumento risponde alla domanda dell'impresa perché è un'impresa dovrebbe utilizzare software libero piuttosto che software di azienda commerciale io posso dire che il motore di un'impresa che deve fare ritorno dalla vendita del software è sicuramente l'esigenza del cliente è chiaro che in determinati epochi lo dico con molta serenità l'evoluzione delle funzionalità rispetto agli scenari di impiego delle tecnologie non è stata questo giudizio personale e critico nel senso che in maggio mi sono occupato anche di ero fra quelli che hanno spinto verso un passaggio diverso più veloce non è stata all'altezza delle esigenze operative che nel frattempo si sviluppano però mi posso dare anche una visione diversa tra le cose la quantità di aziende in Italia che dispongono di un server oppure che lavorano in modalità di collaborazione quindi condividono informazioni a livello di aziende considerando che in Italia abbiamo 4.200.000 imprese di cui quelle dichiarate edito discorsi sul suo messo 4.100.000 sono imprese con piccole con meno di 50 dipendenti e la maggior parte metà di queste hanno meno di 10 dipendenti per intenderci queste imprese non sono abituate a lavorare per processi cioè non dialogano fra il loro sono per processi molto elementari per intenderci le informazioni sono sul computer del venditore che magari non è un dipendente dell'impresa perché la piccola imprese non si può permettere un venditore a livello paga e il venditore quando va via porta via con sé le informazioni relative ai suoi clienti alle operazioni fatte e di dicembre è l'impresa per il primo anno per cui oggi c'è il problema che abbiamo in Italia è che ascoltando le esigenze di lavoro dell'impresa ci troviamo nel disporre la sua grande impresa delle metodologie che maggiormente vengono richieste per i processi che le grandi imprese stanno adottando per essere più competenti ma la piccola imprese italiana non ha la forza per investire e modificare i propri processi di lavoro che la soluzione sia aggregata o meno qualunque sia la soluzione di certo non li può farlo mai noi non siamo una società di consulenza che vende di servizi non vogliamo farlo perché altrimenti gli azionisti dicono pure l'azienda di software lo so che deve fare poi discutirgli o meno questa è la scelta non siamo azioni di servizi per cui di sicuro un'impresa come Microsoft ha come fine capire quali sono le esigenze delle aziende e cercare di risolverle questo è il motore che unida lo sviluppo quando l'abbiamo fatto è stato un errore in merito alla tematica delle metodologie in uso qui toccherò anche ne approfitto per darti una risposta perché ci sono a seconda del momento dell'ingegneria e del software diverse discipline che l'accademia più poi l'ingegnerizzazione applicata ha consolidato in circa 40 anni praticamente di metodologia prendo una delle tematiche dell'ingegneria del software più rilevanti oggi dove i sistemi sono interconnessi tramite qualcosa in internet che non era stata pensata per l'uso che se ne fa oggi cioè di fronte di internet rispetto alla sicurezza noi fino a 5 anni fa abbiamo avuto un approccio i nostri gruppi lavoravano mediamente come entità fatte anche da mille di persone singole dialogavano fra loro a livello di protocolli di comunicazione quando i prodotti dovevano praticamente parlare ma si fa una sicurezza dipende i gruppi possono essere no dipende perché ci sono dei progetti che sono nati voglio dire da 4 programmatori 8 tester e 3 architetti perché i programmatori pochi in quel caso gli andavano bene quando parliamo di un sistema complesso di lavoro organizzato e le metodologie sono fondamentali rispetto alla solida del software la sicurezza era la tematica principale 5 anni fa abbiamo cambiato totalmente l'approccio sono stati rivisti tutti i prodotti ma proprio tutti a parte economicamente è stato uno sforzo di ruolo contegui e per darvi un ulteriore ordine pratico perché se bisognerete andare al dettaglio ci sono tante l'iniziativa l'iniziativa si chiama Traspost Bonarini oggi c'è una società esterna intendente che certifica da un punto di vista di sicurezza il codice abbiamo iniziato con Windows Server 2003 visto un prodotto che è stato preso da una società esterna nei sorgenti e verificato i sorgenti e la conoscenza è già sempre c'è un'azienda esterna che certifica linea per linea rispetto alla sicurezza come stato scritto vista quindi cosa ci aiuta a fare sono molte più di 50 milioni sono costi di più allora sicuramente bug free non è bug free perché la società serve anche per verificare se le metodologie sono quelle corrette e poi vengono scoperte anche i bug i cicli di test ragazzi sono fatti appositamente per andare a identificare l'errore il motivo per cui poi la conoscenza viene condivisa non è una conoscenza che non viene condivisa le università dispongono della possibilità di avere gli interi sorgenti dei prodotti principali di Microsoft molti dei nostri prodotti lo garantisco vi dico la lista che si continua che così facciamo quindi se nell'università si insegna metodologie si studia metodologie ma non si producono poi prodotti che vanno in commercio i sorgenti sono disponibili 60 paesi allo mondo hanno firmato i sorgenti li usano anche a livello nazionale per studiarli e verificare che non ci siano quello che in passato poteva anche essere magari senza creare un danno comunque una violazione di determinati principi il famoso ruolo di Pasqua non è possibile più perché sarebbero le cose più elementari di terapia e poi ricordate che ci sono 100 milioni di lire di codice rese a disposizione in sotto licenze che sono assimilabili a quella che voi chiamate gpl o che il mondo chiama genericamente gpl anche perché lì ce ne sono varie sotto share andate sul sito codeplex codeplex di fare lo sviluppo di determinate tecnologie che sono molto legate a periferiche allora ragazzi il suo è per me posso anche stare zitto me ne ritorno a casa di fare lo sviluppo a fare lo sviluppo a fare lo sviluppo approvato a chiamare il nostro ci sono io personalmente a garantire il fatto che se vuoi si chiama il customer service il 7039 adesso è 21 7039 21 tranquillamente guardi tutto quello che loro praticamente no c'è la procedura, loro sanno tutto quello che loro praticamente fanno viene documentato quindi io sono in grado anche di andare a vedere la sua richiesta per verificare non lo so se il suo ho sentito io le dico che se lei ha motivo allora guardi il prodotto preinstallato la decisione è presa dal costruttore dell'acqua che ha in licenza il prodotto è una licenza diversa non è la stessa licenza per cui ci sono delle condizioni che detta parzialmente anche il costruttore dell'acqua anche qua ti sto parlando dell'autocostruttore o non tutti i costruttori hanno la stessa mentalità e modalità di lavoro ok? per cui perciò che se lei va a comprare un software un computer che ha preinstallato qualcosa e non lo vuole può già all'inizio quel produttore guardi la Dell cosa fa la Dell le fa scegliere quello che le vuole preinstallato quella secondo me è la strada per evitare tutti questi contenzi ci sono delle macchine che sono in produzione in questo momento da HP per esempio da Dell che vengono preinstallate tanto con Linux quanto con e quindi il mercato si sta muovendo in quella direzione che è la risposta migliore perché si risolve il problema può capitare spesso che per esempio una casa lo capito solo che io ho fatto un contratto col costruttore Argon le due ragioni però non posso risolvere quello che il costruttore Argon vuole fare ma ascolti io non posso ma non posso vedere le immagini se lei ha scelto un prodotto piuttosto che un altro lei è libero io sono libero mi sceglie quello che vuole non c'è mica problema non compro una macchina mi installa Windows se non la vuole finire la domanda cioè se c'è alternative che compro come non ci sono alternative ci sono alternative ma chi ha detto che non ci sono alternative ci sono scusate scusate mi risponda alla domanda quando posso la parola alla professione allora ci sono da distinguere riguardo all'università ci sono due modalità di valutazione dell'administrazione l'università che ha delle esigenze di amministrazione e di gestione della impresa l'università dell'istituzione l'università ognuno ha chiamato come vuole e poi c'è l'università che fa i dati che ha chiesto insieme rispetto alle valutazioni di università che l'università fa nell'ambito gestione dell'università ci sono dei responsabili dell'università che credo che abbiano di competenza riguardo poi se non hanno anche discutenti e protestati non so cosa dirvi che un usualmente in un'economia del mercato per fortuna si può fare ancora così prende in considerazione tre criteri che i colleghi che si diranno voglio dire l'economia usano tutti i giorni costo valore rischio fino presumo che dato che se sono a loro costo avranno dimostrato le competenze nelle valutazioni che fanno costantemente costo valore rischio sia il fattore che guida la scelta se lei è interessata a vedere situazioni in un'architettura piuttosto che un'altra o miste che vantaggi costo valore rischio hanno portato a delle aziende ogni azienda un caso a sé ognuno deve studiare la questione per la propria realtà noi su un nostro sito lo facciamo vedere dei casi ci sono altre entità a noi concorrenti per esempio non è il che mostra le sue ora con le sue la cosa migliore è che la valutazione segue dei canoni economicamente importanti che sono costo valore rischio questo è il tema in ambito di didattica è diverso io il punto che ha sollevato il tuo collega prima lo capisco cioè per me se per insegnarti a usare il wordpress sono in termini macchine da scrivere hanno usato office macrosoft per fare macchine da scrivere per me ha senso che in università cioè in didattica potesse usare anche di open office il punto che è non so per quale motivo hanno usato Microsoft Office non per esempio di programmatico però se devono trasferirti nelle metodologie di lavoro ormai tipiche nelle aziende più importanti o comunque nel futuro qual è la collaborazione o altre tematiche di questo genere poi in office Microsoft ci sono quindi io non so darsi la risposta perché non so da dove sono partito riconosco che potrebbe esserci similità però ti garantisco che se vuoi collaborazione per esempio non sono previste e altrimenti per office non è per il punto di tempo in quale per office può andare bene se parliamo di collaborazione di scenari di mobilità per esempio un'integrazione con i portatili di gestione delle informazioni per esempio io devo dire a te una cosa non voglio farlo sapere un altro non è conoscenza voglio dirti che non andrò a scuola domani non voglio che mia madre lo sappia ok ho bisogno di essere certo che tu non giri questa informazione a mia madre questo è supportato da Microsoft Office e le aziende che si usa non è supportato da Microsoft Office tutto va allora io non lo so perché è stato scelto però ricorda che ci sono questi criteri costo valore e rischio ok velocessimi perché so che la persona di Microsoft deve andare e voglio parlare di fronte a loro e dire che senta la mia risposta allora prima detto che vanno dai governi questa non è si chiama opera di Microsoft si chiama lobbying e ha il suo nome e loro la maschera regalano le cose alla scuola si chiama condizionamento dell'educazione ha il suo nome regalano sempre le cose di valore zero come vi ho spiegato e tendono a condizionare i nostri giovani a spiegare che quello è l'unico mondo possibile la patente europea l'abbiamo visto prima ha detto una frase che mi ha lasciato sconvolto c'ha concesso se lo devono usare Open Office potevano ringraziamo della gentile concessione ma secondo me dovevano e cambia le cose perché non è possibile insegnare qualcosa che fa dell'università lo sponsor di qualcuno l'università deve essere super parte stoppiamo volare alto scusi se Open Office non supporta la collaborazione quella è un pezzo della didattica con che strumento la collaborazione è sulla lavagna come ha fatto prima per esempio l'informatica tra l'altro non bisogna legga Stoll riflessione di una rettica e tech nella scuola bisogna insegnare concetti bisogna che cos'è un database andare a insegnare il racconto e la collaborazione e il coso le posso chiedere una cosa quando è che Stollman ha iniziato a scrivere su queste cose e a diffondere questo pensiero che anno era? 1975 però ha iniziato guardi ha iniziato perché sono gli scritti pubblicati era il 75 comunque e forse anche l'80 e allora voglio dire evidentemente è 25 anni che abbiamo le idee per capirle io sto dicendo io sono 25 anni che c'è un'elita che sta tentando di colonizzare il mercato facendo lobby regalando software tentando di fare modi e fare le cose facendo ricchiati all'elita produtrice dell'hardware perché i produttori dei portatili se vendono software e lasciano la libera scelta possono avere condizioni di mercato diverse certo che un produttore tende con delle leggi non è possibile ci sono delle leggi no vabbè è la legge è la legge è la legge è la legge che impediscono gli atteggiamenti prevaricatori che ci sono stati agli inizi degli anni 90 per cui le aziende ha subito due condanne una negli Stati Uniti e l'altra negli Europa no negli Stati Uniti non siamo stati condannati e in Europa non è stata condannata e non riguarda e non riguarda e quello che è in discussione in Europa non riguarda quanto il professore sta dicendo la libertà del costruttore hardware di installare il sistema operativo di offrire se voi aveste scusate trovate il microfono che se siamo danni pari no 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 però vorrei spiegare che ho col microfono senza vorrei spiegare per bene che se un fornitore è a disposizione vede che il 90% del mercato per condizionamento precedente è verso un fornitore farà tutto per inchinarsi a quello e fare tutto quello che vuole è ovvio che fa i driver i driver li hai trovati già fatti per il fornitore per loro e invece noi dobbiamo stare a fare la fatica a nostro costo di capire come funziona l'interfaccia pensate a Broadcom Broadcom l'interfaccia wireless capire come sono fatte per consentire alle persone di avere dei prodotti liberi quindi stiamo lavorando non ad armi pari concluderei dicendo due numeri sta arrivando Windows Vista ci sono diciamo circa 30 milioni di calcolatori in Italia e sono per difetto ho guardato i prezzi di un OIM da un fornitore OIM diciamo che circa un 110 euro 120 più IVA a macchina è il prezzo che si pagherà fra facendo un mix per basic business e ultimate vuol dire che pensando a un parco ma è una fregatura quella che vi dicono Sony consiglia l'acquisto di software Windows obbliga di fatto all'acquisto e 4.5 milioni di euro in tre anni di licenze poi ovviamente non funzionano gli hardware attuali 15 miliardi di euro per addornamento software hardware e poi se uno ha l'office ci vorranno altri 5 miliardi avere le icone che ballano le cose avere questo mi sento il grillo parlante che sta parlando a dei lucignoli che pensano al paese dei balocchi il paese dei balocchi ci costerà mezza finanziaria bisogna pensarci per tempo e questo il grosso che possiamo fare concludo dicendo io dico le mie idee e i miei colleghi mi vedono come rompe scatole all'interno dell'università ma io sono libero di dire una cosa e il contrario della cosa altri devono parlare per la loro società non so se avrebbe risposto alle cose che vi ho detto io oggi che ho parlato non di mia perché altrimenti non sarebbe stata a usire la discussione quindi non sto parlando di una società e anche delle cose che ho appena citato ci credo tantissimo io non ho la zona del professore perché non docente però parlando il mio quindi quello che avete sentito avete sentito l'opinione di un cittadino poi conosco i fatti di un accento e posso raccontare delle cose a questo punto fondamentale andate a guardare costruite di voi dai fatti una vostra valutazione secondo me è sempre questo il criterio perché ho messo su me in certi contesti altre cose vanno bene in altri come tutto nella vita ognuno di voi sa qual è il paradigma lo applichi